paura nella notte ornavasso il paese si è svegliato sott'acqua la frazione di migiandone ancora isolata torna a franare la montagna a valdo in valle formazza già iniziate le operazioni di sgombero dei materiali quattro frane nella notte a vergonte situazione difficile a vogonia e in valle anzasca ingenti danni a omegna la violenza dell'acqua ha distrutto un laboratorio artigianale allagamenti a grave lonatoce esondato nel pomeriggio il lago maggiore appallanza danni a baveno con alcune famiglie di oltre fiume sfollate dopo la maglia ridata filippo ganna indossa anche la prima maglia rosa del giro d'italia 20 20 sua la crono di apertura ben ritrovati dalla redazione di vco notizie un'edizione del nostro giornale dedicata all'alluvione che ha colpito il vco e tutto il piemonte con famiglie evacuate frane strade e paesi allagati ore di paura e poi la conta dei danni ingenti iniziamo dal territorio della bassa ossola ornavasso è tra i comuni più colpiti dal maltempo con migiandone ancora isolata una bomba d'acqua nel cuore della notte su ornavasso con forti raffiche di vento il paese si è svegliato sommerso ancora isolata e così trascorrerà la notte la frazione di migiandone dove risiedono circa 350 persone alcuni anziani 6 7 sono stati evacuati in particolare quelli che abitano nelle frazioni teglia e loia la situazione ornavasso è davvero molto 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 grave e quindi da soli francamente non ce la faremo abbiamo assoluta necessità della regione piemonte la strada del boden è completamente terrotta in almeno una dozzina di punti come potete vedere sia da alberi sia da frane sia da cascate torrenti migiandone completamente allagata nonostante gli interventi dell'aipo pare che proprio come dire i riminori abbiano si siano abbattuti contro il muro dell'aipo quindi il toccio non è entrato ma non è stato possibile mettere in toccio assolutamente nulla ci sono delle persone che sono state evacuate l'elicottero di vigili fuoco sta monitorando la situazione quindi siamo in estrema difficoltà le squadre sono già al lavoro però ribadisco c'è l'assoluta necessità dell'intervento della regione piemonte buona parte del paese senza acqua gas luce telefono e l'invito a salire ai piani alti delle abitazioni a tutte le persone che risiedevano in zone esondate o prossime all'esondazione il sindaco nel tardo pomeriggio però ha parlato di una situazione in via di miglioramento con il toccio che lentamente sta rientrando nel suo alveo il ringraziamento ad enel che poi nel tardo pomeriggio ha ripristinato la corrente nonostante i 30 operatori del gas al lavoro i tempi di ripristino di questo servizio richiederanno invece qualche giorno siamo riusciti a riattivare l'erogazione dell'acqua alla frazione di migiandone dove purtroppo vi sono danni nei pressi del bacino di carico ha aggiunto cigala fulgosi grazie ai vigili del fuoco che hanno operato anche con un elicottero e ai loro gommoni è stato possibile assistere le frazioni di migiandone e gli abitanti di alcune vie impraticabili di ornavasso tutti stanno bene questo è senz'altro quello che conta abbiamo alcuni sfollati che abbiamo alloggiato presso l'albergo italia ha concluso cigala fulgosi migiandone è stata raggiunta anche dagli uomini del soccorso alpino passati per la montagna ci siamo poi organizzati tra famiglie prestandoci quanto poteva servirci riferisce marco cregar che ricorda la concitata notte appena trascorsa la pioggia copiosissima la corsa alla ricerca dei proprietari delle auto parcheggiate nelle zone poi alluvionate la paura tra i nuovi abitanti della frazione diverse le famiglie giunte qui nell'ultimo decennio l'ansia più contenuta degli storici abitanti di migiandone che fino a una ventina d'anni fa erano purtroppo abituati a periodiche alluvioni e a formazza è tornata a muoversi la frana di valdo diverse le famiglie evacuate da anche alcune attività commerciali sono iniziate le operazioni di sgombero del materiale oggi il geologo però non è riuscito a raggiungere la zona a causa dei numerosi problemi alla viabilità provincia spezzata in due con la chiusura della superstrada all'altezza di ornavasso e le arterie alternative off limits per allagamenti in serata e attesa l'apertura della provinciale che transita da ornavasso dovrebbe essere la prima riapertura di via di collegamento con l'ossola anche i treni sono rimasti fermi per buona parte della giornata il primo da domodossola verso milano è partito alle 15 e 55 e ora andiamo in valle formazza notte di paura formazza dove la frana di valdo è tornata a muoversi una stima approssimata parla di 100 mila metri cubi di nuovo materiale roccioso caduto dalla montagna fango roccia detriti finiti nell'invaso artificiale creato a valle per arginare gli effetti della frana sul paese i nuovi distacchi hanno fatto scattare l'evacuazione di diverse famiglie nella notte a quelle storiche se ne sono aggiunte altre una ventina di persone ospitate ora in caso di amici ma anche in albergo la frana ha parzialmente modificato il suo corso questa volta rendendo pericolosa la situazione verso nord rispetto all'area generalmente considerata rischio ordinanza di sgombero anche per quattro attività economiche compreso l'albergo monte giove sotto la pioggia sono già iniziate le operazioni di sgombero del materiale ruspe palle sono al lavoro dall'alba per rendere la situazione meno pericolosa bisognerà attendere anche una schiarita per valutare complessivamente l'entità dei danni e la situazione nel suo complesso necessario il sopraluogo del geologo che oggi però è stato impossibilitato dal maltempo e dall'isolamento viario della valdossola raggiungere formazza nella culla dei valser la frana di valdo non è stato l'unico problema della nottata e della giornata l'acqua e gli alberi caduti a seguito dell'avvento hanno reso impraticabile diversi tratti della strada statale a sud i problemi maggiori si sono registrati in località chiesa e non è andata meglio a nord verso le frazioni di grovello e cansa anas in via precauzionale visto l'allarme già ieri sera va chiuso la strada da cansa reale per tutta la mattinata mezzi meccanici sono stati al lavoro lungo tutto la 659 per sgomberare la sede stradale formazzina da detriti e permettere il passaggio della corriera verso sud vediamo la situazione negli altri territori ossolani cinque famiglie spollate quattro frane e danni ingenti a strutture comunali abitazioni private per gli altri sei nuclei familiari l'evacuazione potrebbe scattare in presenza di una nuova allerta arancione è il bilancio di una notte di paura a pieve vergonte loro contradda la villa e località la torretta a fo marco le zone più colpite assieme a megolo sommersa dalle acque del toce la situazione è drammatica dice il sindaco maria grazia medali questa notte è stata sul campo assieme ai volontari della protezione civile squadre di vigili del fuoco tutti hanno prestato soccorso dove possibile e monitorato i casi più a rischio non ricordo una situazione così né durante l'alluvione del 2000 neppure nel 2002 è spaventoso continua medali a loro la frana danneggiato il parcheggio comunale il parco giochi sott'acqua e fango diverse autovetture il geologo incaricato dal comune per tutto il giorno effettuato i sopra luoghi nelle aree franate pieve assieme alla bassa ossola risultano essere le aree maggiormente colpite dal maltempo della notte e mattinata di oggi anche a vogonia la situazione è stata difficile in particolar modo in località calami la zona prossima al toce al confine con pieve vergonte nel pomeriggio sono arrivate squadre di pompieri che prima hanno provveduto a liberare le strade da alberi e rami poi con l'ausilio di drovore a liberare garage scantinati dall'acqua per la conta dei danni causati dalle forti raffiche di vento bisognerà attendere il ritorno del bel tempo il sindaco stefanetta ha coordinato tutti gli interventi della notte e del giorno operazioni complesse che hanno riguardato anche la viabilità lungo la provinciale del paese dove l'acqua ha raggiunto in alcuni momenti punte massime di 80 centimetri per questo motivo è scattata la chiusura al transito stessa fotografia lungo il rettilineo che da bogonia porta pallanzeno anche qui la provinciale chiusa e diverse abitazioni in base dall'acqua un fenomeno di queste dimensioni non succedeva dal 1979 ricorda il sindaco giampaolo blardone nella parte bassa del paese diverse abitazioni sono allagate anche qui si registrano alcuni spollati alloggiati presso parenti amici dalle 14.000 utenze senza corrente elettrica nel verbano così ossola molte sono situate proprio sul territorio ossolano a cuzzago di premosello per esempio si contano 500 persone senza energia da ieri sera nel pomeriggio il sindaco monti con il comandante dei carabinieri effettuato un sorvolo aereo del territorio comunale per valutare la situazione è emerso che la strada provinciale che collega a cuzzago a migiandone risulta fortemente compromessa nel pomeriggio per garantire il servizio di alisi ad un anziano di premosello è intervenuto l'elicottero l'uomo è stato caricato sul belivolo con il verricello una squadra dei vigili del fuoco aiutato nelle operazioni l'intervento dei pompieri ha permesso di mettere in salvo anche 12 dei 15 cavalli ospitati verso il centro a cielo rosso i vigili del fuoco dotati di muta hanno scongiurato la morte degli animali intrappolati nell'acqua fredda troppo presto invece per fare la conta delle pecore morte lungo il fiume toce dove un pastore accudiva al suo greggio solo una minima parte di questo greggio è riuscito a mettersi in salvo compreso l'uomo è stato un evento eccezionale ricorda monti si pensi che l'alluvione del 2000 che tanta paura ha causato in tutta la provincia è stato meno violento di quest'ondata di maltempo il primo cittadino premosellese riporta un esempio vent'anni fa dice l'acqua arrivò a lambire locali del supermercato conad posto lungo la provinciale oggi all'interno del negozio si contava un metro d'acqua viabilità il collasso nonostante le ruspe della ditta cogeis abbiano lavorato dalla tarda mattinata di oggi per creare un barco lungo la provinciale della valle anzasca qui sono tre dismottamenti che si sono verificati fra calasca castiglione bagnanzino a calasca uno smottamento è avvenuto anche all'interno di una strada comunale della paese in località meggianella il comune anzoschino figura nell'elenco delle località rimaste al buio per tutta la giornata oltre che la notte altro comune colpito dal maltempo è macuniaga dove il rio tambac ha causato il crollo di un ponte situato tra le località staffa e pecetto a retto nonostante la pioggia intensa la provinciale della valbonianco a fronte delle frane degli anni scorsi si è registrato la caduta di una pianta fatto che ha richiesto sì di intervento dei pompieri ma la transibilità dei mezzi di soccorso non è mai venuta meno credo ha detto il sindaco mauro valentini che sia il frutto dell'ordinanza con cui è imposto il taglio di piante lungo la strada a questo si aggiunge anche l'esercitazione effettuata da ibi sempre lungo la provinciale problemi si registrano invece all'interno dell'ultimo tratto della strada comunale che porta in località pizzanco sempre a bognanco domani mattina il sindaco il geologo effettueranno il suo parluogo la notte di paura in ossolo era cominciata da mergozzo dove attorno alle 23 era scattato l'allarme la piazza del paese diventata una lunga propagine del lago la piazza lagata con auto sommerse anche in diverse altre vie del paese automobilisti in panne sommersi dalle acque che hanno aspettato l'intervento dei soccorritori per poter uscire dalle loro vetture situazione di emergenza richiesta anche nelle alture di mergozzo soprattutto in località bracchio alle 17 di questo pomeriggio invece a santa maria maggiore si sono riuniti i sindaci dell'unione montana della valle vigezzo un incontro voluto dal presidente giovanola dopo gli smottamenti della notte adissimo e craveggia nella valle dei pittori molte le utenze ancora al buio più a sud a villa d'ossola destare paura è stato il vento scoperchiati diversi tetti danneggiato anche quello del deposito comunale situato vicino al municipio le tegole cadute hanno rovinato una delle auto in dotazione alla polizia municipale in giornata il sindaco bruno toscani con la protezione civile ha fattuato diversi saperluoghi a cominciare da quello alle scuole elementari del pep una pianta abbattuta dal vento si è adagiata sulla struttura scolastica solo nella giornata di domani dopo le ispezioni il sindaco comunicherà se le scuole cittadine lunedì saranno regolarmente aperte situazione di relativa calma nel capoluogo solano a domo d'ossola infatti non si è andati oltre qualche cantina allagata rami e piante abbattute dal vento e il monitoraggio dei principali corsi d'acqua e vi diciamo subito invece che il sopraluogo a villa d'ossola sia concluso in serata ed è stata decisa la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 5 ottobre a tutela dell'incolumità degli alunni e di tutte le persone ci spostiamo ora nel cusio a omegna fortemente colpita dal maltempo la zona di via 4 novembre via 4 novembre qui abbiamo un parcheggio dove per colpa dell'acqua una torrente strona che è rosa il sottofondo è crollata una parte di questo parcheggio abbiamo avuto anche sotto il proprio stato qui è crollata una parte di una palazzina dove grazie a dio non c'era nessuna persona presente adesso abbiamo fatto evacuare una persona di 90 anni da questo stadio perché è un serio pericolo abbiamo avuto anche problemi su a pontebria dove anche lì un tratto di strada è crollato. Sono una quindicina le persone evacuate qui nel via 4 novembre dopo quello che è successo nella notte con infatti il crollo delle fondamenti di alcune bidone portanti di alcuni edifici insomma situazione drammatica. Sì perché probabilmente la variazione del percorso del fiume ha eroso tutta l'argine portandosi via una fabbrichetta una porzione del capannone dell'agostinetto altre porzioni di altre costruzioni fino alla cipir scavando quasi fino alle fondamenta e abbattendo anche i pilastri portanti dello stesso cipir. Signora Laura il lavoro di una vita portato via in pochi minuti della furia. Se ne è andato con la furia dell'acqua, macchine da cucire, stoffe, tessuti, ufficio, incartamenti, la mia vita, la mia vita se ne è andata con l'acqua. A parte il fatto economico di perdita di lavoro, di macchine, di tutto il macchinario e le attrezzature che c'erano dentro, quello che conta di più è che la vita se ne è andata con l'acqua veramente. E continua a franare il parcheggio di fronte al centro per l'impiego di Omenia nel tardo pomeriggio un'altra porzione di asfalto come potete vedere nelle immagini ha ceduto ed è finita nel torrente Strona. Ecco qui proprio il momento della caduta della parte più esterna della strada. E a Omenia importanti danni anche alle strutture sportive, di velta parte della copertura della tribuna dello stadio liberazione e pesantemente danneggiato il tennis. Questo è il campo numero 3 del tennis di Omenia che ospita la scuola tennis sia nel periodo invernale che nel periodo estivo. Quindi abbiamo questo danno immenso che comporterà delle spese molto molto elevate in quanto è stimato per 90-100 mila Euro il danno in questo momento, ma fa così un po' la buona e abbiamo difficoltà chiaramente a proseguire con la scuola tennis. In una stagione contraddistinta dal coronavirus dai problemi che ci sono stati non ci voleva un'ammazzata. Diciamo che è proprio la goccia che fa traboccare il vaso perché solo col coronavirus abbiamo tenuto chiuso l'impianto per tre mesi, abbiamo avuto delle difficoltà economiche per stare in piedi durante l'estate e questa scopola non ci voleva. Per cui sì, ci mette in ginocchio però pensiamo che ci sarà probabilmente gente che ha avuto danni peggio di noi. Però il nostro è un'attività sportiva a livello sociale per i bambini e per i ragazzi e quindi per noi è un bel danno. E danni pure al lido di Bagnella. Il vento e la pioggia hanno distrutto il gazebo, caduti alberi e danneggiate alcune strutture fisse. In telaiatura e telo nuovo della terrazza sono stati strappati, alberi spezzati e sono finiti sul gazebo. Cogenerazione in avaria probabilmente colpita da un fulmine, una barca antica divelta e distrutta e barchino di salvataggio colpito da un albero. Il lido è coperto di legname e detriti. La spiaggia è stata invasa dalle acque del lago e dal materiale portato a valle dalla piena della fiumetta. Ed ora il punto sul resto del territorio cusiano a partire da Gravellona Toce. È una situazione difficilissima quella che ha coinvolto nelle ultime ore tutto il Cusio. Gravellona è sott'acqua. Via Cirla, Via Nuova, Via Stampa sono sotto più di un metro di acqua chiuso nel corso della notte. Corso Milano per colpa di un torrente improvviso che dalla Via Valguerra ha invaso completamente la sede stradale. Atteso nelle prossime ore un sopraluogo da parte di un geologo perché preoccupa il versante montano sopra questo torrente che si è formato nelle ultime ore. Sulla provinciale delle Quarme, alberi e sassi, una ventina, sono caduti nel corso della notte impegnati per tutta la notte i volontari della protezione civile insieme ai sindaci per ripristinare la circolazione e consentire che ci potessero transitare le autovetture. La Valestrona è stata interessata come sempre e come spesso accade in caso di forti piogge da diversi movimenti franosi. Da primo intorno alle 20.30 di ieri sera, prima dell'abitato di Strona, sassi e detriti finiti sulla strada. Paurosa invece la frana che ha interessato Massiola. In particolare travolta una casa vicino alla chiesa. Per fortuna in quel momento la casa era disabitata, non c'era nessuno all'interno. A Cesare sono state evacuate alcune famiglie a seguito della frana che ha interessato nella tarda serata di ieri la parte vecchia del paese. Alberi e piante un po' dovunque su tutte le strade comunali, tra Prato Lungo e da Grano, a Pontebria dove è crollata parte del manto stradale. Insomma una situazione complicata, complicatissima, è cresciuto moltissimo. Anche il lago d'Orta a quasi un metro nel corso delle ultime 24 ore. E se ne faceva giocendo nel servizio resta critica. La situazione in Vallestrona nel pomeriggio. Il presidente della provincia Lincio e l'assessore alla viabilità Porini hanno compiuto un sopralluogo. A metà pomeriggio sono riusciti a raggiungere Massiola. La strada è stata in parte liberata per permettere almeno ai residenti di raggiungere le case. Ma Porini raccomanda prudenza. Drammatico, come già detto, lo scenario nel centro di Massiola. Distrutta anche la strada comunale. I danni sono molto ingenti. Lunedì la provincia chiederà lo stato di emergenza. Liberata grazie agli AIB la strada per Germanio. Nel tardo pomeriggio Forno era ancora isolata. La viabilità su tutte le strade provinciali, spiega Porini, è stata ripristinata almeno per la circolazione dei residenti. L'unica eccezione sono la strada per Macugnaga da Calasca a Castiglione, dove si sta ancora lavorando, e la strada della Vallestrona dall'innesto per Massiola, che è raggiungibile, verso Forno. Ed ora la lunga notte di Orta San Giulio. Vigili del fuoco impegnati nel taglio piante, liberate in mattinata via San Quirico per il cimitero, la strada a Maria Teresa di Calcutta, che porta alla Villa Serena, alla Casa di Riposo, l'entrata al Sacro Monte e via Panoramica. Nel pomeriggio interventi a Legro e a Corconio. E strada occidentale del Lago d'Orta, la provincia ne comunica la chiusura dopo il bivio di Arola. Ed ora andiamo a Baveno e a Verbagna. Notte di paura a Baveno per tre famiglie che sono state sfollate in via precauzionale nella frazione di Oltre Fiume, in via Fraccaroli. Una famiglia è stata sistemata in hotel e le altre due si trovano a casa di parenti. Sempre in quella zona una parte della strada pedonale è stata portata via dall'acqua. Sono ingenti i danni un po' in tutto il paese, dal lungo lago alle frazioni. In via Arnold, a Ferriolo, numerosi garage sono stati allagati. Il comune, con l'assessore al bilancio Emanuele Vitale, annuncia di voler chiedere aiuto alla regione per far fronte ai lavori di ripristino. Il sindaco Alessandro Monti ha firmato un'ordinanza per la bollitura dell'acqua per uso domestico. La situazione nel Verbano è stata tutto sommato contenuta. Il problema maggiore sono stati gli alberi abbattuti dal vento. Corso Mamelia Intra è stato chiuso nella tarda serata di ieri, proprio per le piante finite sulla carreggiata, ed è stato riaperto solo questa mattina. Un traghetto diretto a Intra non ha potuto attraccare proprio per il vento e ha navigato per circa tre ore sul lago prima di poter giungere in porto. Poi la navigazione è stata sospesa fino a questa mattina. Villa Taranto è chiusa per le numerose piante cadute. Da lunedì ci saranno interventi di pulizia e messa in sicurezza per poter riaprire. Numerose case sono rimaste senza corrente anche fino a 13 ore. I guasti sono stati riparati nel corso della giornata in quasi tutte le situazioni. Nel tardo pomeriggio ancora 300 utenze erano senza energia elettrica. Problemi anche con internet e la fibra ottica. Lo scenario della zona dell'imbarcadero di Intra questa mattina era impressionante per la buzza che invadeva la superficie dell'acqua. Da domani, fa sapere il sindaco Silvia Marchionini, inizierà la pulizia. Oggi le ditte incaricate dal comune hanno proceduto senza sosta a tagliare piante pericolanti in vari punti della città. L'assessore all'istruzione Riccardo Belezza ha compiuto un sopraluogo con l'assessore ai lavori pubblici Nicolo Scalfi nelle scuole. La più colpita è stata quella di Torchiedo, dove però già da stamattina si sta lavorando per riportare tutto alla normalità. L'assessore alla viabilità Patrick Rabaini raccomanda di non parcheggiare lungo i fiumi. Oggi chiusa la sede provvisoria della biblioteca per qualche tegola caduta. La situazione viene monitorata costantemente dalla prefettura. Questa mattina a Vila Taranto si è tenuto un vertice per fare il punto della situazione e della viabilità. Provincia, sindaci e forze dell'ordine sono in stretto contatto con la protezione civile. Per tutti gli aggiornamenti. A San Bernardino Verbano smottamento nel mezzo dell'abitato di Rovegro. Al momento non vi sono sfollati, ma se le condizioni meteo dovessero tornare a peggiorare, dovremmo emettere un'ordinanza per allontanare tre persone. riferisce il sindaco Assunta Rigoli, piante poi sulla provinciale Santino-Rovegro. Abbiamo sentito l'appello del sindaco di Ornavasso alla regione Piemonte. Il governatore Cirio chiederà lo stato d'emergenza. A livello piemontese, dispersi, interi, paesi isolati, strade, case devastate. I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, del Biellese nel bacino della Sesia. In Val Sesia è crollato il ponte sul Sesia tra Gattinara e Romagnano. Non si hanno notizie di feriti o dispersi, ma il ponte, chiuso dalla serata di ieri, venerdì 2 ottobre, era stato riaperto a mezzogiorno di oggi. Diverse le dighe in allerta, tra queste quella di Ceppo Morelli. Le forti piogge della notte hanno determinato la disalimentazione di 55.000 utenze elettriche, 14.200 nel Novarese, come già citato in un servizio precedente, 14.000 nel VCO. Intanto pompieri da Bologna a Verbania per l'emergenza maltempo. Questa mattina alle 8.30 la colonna mobile dei Vigili del Fuoco dal comando di Via Ferrarese è partita alla volta di Verbania, tra le squadre anche esperti nella gestione dei danni da alluvioni e soccorritori. Intanto il Lago Maggiore è uscito oggi pomeriggio a Pallanza, anche a Darone il livello è alto, qualche cantina allagata. Il Lago Maggiore è uscito stamani a Pallanza, di fronte al Palazzo di Città. Solo pochi centimetri dovuti all'ondata di acqua che dalle valli e dal canton Ticino si è riversata sul Verbano. Le condizioni meteo parlano di attenuazione dell'intensità delle precipitazioni anche per i prossimi giorni. Anche a Darone il livello è alto, ha sommerso la passeggiata bassa portando la buzza un po' ovunque, però non è uscito nemmeno tra Largo Garibaldi e Lungolago Marconi. Qualche cantina alle semi interrato ovviamente allagata. Tornando al livello del Lago Maggiore in 24 ore è salito di 1,25 m e 1,95 m dai primi di settembre, in un mese, quando però era oltre mezzo metro sotto lo zero idrometrico. Attualmente si trova ad un metro circa sopra il livello medio della stagione autunnale e tre metri al di sotto della massima piena degli ultimi 70 anni. Nel dubbio il vice sindaco di Orona, l'onorevole Alberto Busmeroli, ha invitato la popolazione a prestare attenzione a garage e cantine, soprattutto nella zona Lago. Stesso appello da parte di Fabrizio Barbieri, sindaco di Meina. I vigili al fuoco della caserma di Mercurago sono impegnati più che altro per rimuovere rami e alberi che creano problemi sulle strade secondarie. Attenzione invece viene prestata al cedimento sulla strada statale 33 a chilometro 65 e 500 che proprio le forti piogge ne sono state la causa. Ha superato il record storico del 1958 il valore di pioggia ieri ragguagliato sull'intero Piemonte. Lo rende noto ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Valori eccezionali per le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore su alcune stazioni come Sambughetto nel VCO 630 mm e Limone Piemonte Cuneo 580 mm. Il catastrofico evento meteorico che ha caratterizzato la giornata di ieri, la notte, ha gravemente compromesso le infrastrutture gestite da Acquanovara VCO, in particolare nei comuni di Pieve, Baveno, Ornavasso, Gignese, Gravellona, Mergozzo, Valstrona e Omenia e sono state gravemente danneggiate le infrastrutture del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatura e depurazione. Le squadre reperibili di Acquanovara VCO hanno operato nella notte per mantenere monitorata la situazione, l'attività di ripristino, di verifica è tuttora in corso e proseguirà sino al rientro alla normalità. Tutti gli operativi sono al lavoro, coordinati dal responsabile del VCO Carlo Mazzardi. L'azienda si scusa con gli utenti per gli inevitabili disagi. E il maltempo ha imposto anche lo stop ad alcuni eventi sportivi. Oggi saltata la prova del campionato di motonautica in corso a Baveno, troppo pericoloso correre con numerosi detriti e tronchi presenti nel lago. Domani mattina si deciderà sul programma della giornata. E' rinviato a data da destinarsi, probabilmente a fine mese, nell'ultimo weekend di ottobre, anche il rally del Rubinetto in programma oggi e domani con partenza da San Maurizio d'Opaglio. Ieri sera regolare svolgimento delle verifiche, questa mattina lo shakedown, ma prima della partenza la decisione di rinviare il tutto. Ed ora il cambiamo argomento e parliamo del bollettino coronavirus della regione Piemonte. Nel VCO un nuovo contagio e fermi gli altri numeri. Nel Novarese ben 36 nuovi positivi e un nuovo guarito. A livello regionale ben 279 i nuovi contagi. C'è nessun eccesso, scende di 1 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente sono 12. Ed ora gli eventi sportivi che quest'oggi si sono svolti e da qui arrivano buone notizie. Dal mondo del ciclismo in particolare dopo queste ore difficili. La prima arriva dal Giro d'Italia. Il vignonese Filippo Ganna ha vinto la prima tappa. La cronometro, sentiamo. Semplicemente sublime. Filippo Ganna ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia. La cronometro da Monreale a Palermo di 31 km e 100 metri, sferzata da un forte vento caldo. Il campione del mondo dell'Eneus Grenadier ha preceduto il portoghese Joao Almeida di 22 secondi e il danese Michel Bjerg, sempre di 22 secondi, quarto, gara in Thomas a 23. Il primo chilometro di gara che portava al passaggio di fronte alla cattedrale di Monreale li ridato se lo è letteralmente mangiato. E nel successivo tratto in discesa ha spinto la sua bicicletta dorata una fuoriserie Pinarello denominata Bolly Dtt, creata appositamente per Pippo e griffata Top Gun alla velocità di 106 orari. Il tratto finale sembrava fatto per lui ed il 15 e 24, fatto segnare sul traguardo di Palermo, lo ha portato in prima posizione. Dopo il defaticamento e la lunga attesa sulla hot seat, con tutti i grandi favoriti che non sono riusciti nemmeno ad avvicinare il tempo, staccato da una media incredibile, 58 e 800 km orari, è arrivato il successo di tappa che vede i grandi favoriti per il successo finale, ma è una storia diversa, decisamente lontani. Dopo il tricolore su strada e l'iride su strada e su pista, Filippo veste la maglia rosa, come è successo al giro rosa per Elisa Longoborghini, nella prima tappa della sua prima corsa a tappe. Una maglia rosa meritata, prima di votarsi al capitano Garentomas stesso. Una vittoria che, in una giornata difficile per il nostro territorio, ci voleva proprio. La voglio dedicare a chi mi è stato vicino e alla gente della mia terra, colpita dal maltempo le sue parole. Emozioni enormi, di un fuoriclasse, ancora una volta. Ed è davvero un'altra giornata gloriosa per il ciclismo del VCO, perché pochi istanti dopo la vittoria di Ganna al giro, è arrivata la notizia che a Sarcedo in Veneto, Francesca Barale ha vinto il campionato italiano Donne Juniors, in linea all'ossolana della VO2 Team Pink, ha dominato giungendo al traguardo con 38 secondi, sul resto della truppa su di un percorso alquanto selettivo. Ed ora il calcio, si sono disputati oggi gli anticipi di calcio di serie D, straripante il Gozzano, che ha superato 4 a 1 il Levado, con Silla protagonista, autore di una doppietta, così come Allegretti, successo anche per il Borgosesia, che ha avuto ragione all'inglese 2 a 1 dell'Imperia. E questa era l'ultima notizia, per tutti gli aggiornamenti vi rimando alle nostre pagine social, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con i nostri programmi.